La Salernitana va in fuga, i tifosi già fanno festa e allora Claudio Lotito deve vestire i panni del pompiere. Il patron sa quanto in questa fase della stagione un calo di tensione possa essere pericoloso. A cinque giornate dalla fine e con cinque punti di vantaggio sul benevento, la Salernitana ha messo una bella ipoteca sulla promozione diretta, ma proprio perché si è in prossimità del traguardo, il patron invita tutti a mantenere alta la concentrazione. I traguardi si raggiungono e non si annunciano prima del tempo, esordisce al telefono Lotito. Io sono abituato a parlare con i fatti e con i risultati. Non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo, quindi non bisogna mollare la presa adesso. È il messaggio che ho voluto trasmettere alla squadra subito dopo la partita. Siamo primi ma non ancora promossi, per cui non possiamo concederci il lusso di abbassare la guardia.